Ciao sono Samson, oggi prepariamo la spuma di broccoli. Ok, io ce l'ho qua, broccoli romani, si è già passata in padella con un po' di aglio, un po' di peperoni, un po' di olio. Adesso metto tutto in frullatore per frullare. Aggiungo un po' di avocado, un po' di acciughe sotto olio, un po' di peperoni piccante. Aggiungo un po' di peperoni, un po' di peperoni, un po' di scossa di limone. Un po' di sale, un po' di olio, un po' di succo di limone. Adesso metto gelatina e la metto sotto acqua per un po' di tempo. Adesso frulliamo tutto insieme. e Poi con il cuore dei giovani. Ok, ragazzo. Poi cuore dei giovani e ci sono contenuti in padella. Adesso metto in padella in padella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.